Come promesso, François Hollande ha tenuto la prima delle conferenze stampa con le quali ogni sei mesi renderà conto al Paese del lavoro svolto. Citando i dubbi dei francesi di fronte alla situazione grave del Paese e prendendo atto del calo di popolarità nell'ultimo periodo, ha tuttavia riaffermato la volontà di procedere nel percorso iniziato. La mia missione è semplice, ha detto, è arrivare ad una ripresa della crescita e alla riduzione del numero dei disoccupati. E' certo che su questi risultati, solo su questi risultati, chiedo di essere giudicato dai francesi. Ecco perché ho voluto, con il governo di Euron, affrontare le tre più grandi sfide, il reindirizzamento dell'Europa, il debito francese e la competitività dell'economia. Olanda ha rivadito che la credibilità della Francia sui mercati finanziari è solida perché il Paese si è impegnato a ridurre il suo deficit al 3% del PIL. Grazie. 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 Grazie.